Sei andata a scuola, sei contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sei contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te camminare. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 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 otto. Dove ci notare? Oh, con te camminare! No, 99, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi c'ha vita qua? Ah, un sudano c'ha vita qua! Cento pasti, ci sono da questa nostra, cento pasti. Nato nella terra dei vestri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrato e rispettato, di certi quell'ambiente da lupo colorato. Si sa come si nasce, ma non come si muore, e non sei un ideale, ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando cento passi lungo la tua strada all'ora. 1, 2, 3, 4, 5, 10, cento passi! 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 Da ciò che ho dipendato? L'importante non è capire se uno ha paura o meno, è saper conviverlo con un'altra paura. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare e camminare insieme a cantare, la storia di Fettino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare e camminare insieme a cantare, la storia di Fettino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 E sono Fabriotto, uno dei tanti del nostro padre. Mio padre, la mia famiglia, il mio padre. Io voglio portermene, io voglio scrivere che la mafia non staglia in spazia. Io voglio stare.